Allestito all'interno dell'Istituto Nino Navarra di Alcamo, l'atelier creativo Arte Fatto Maker, realizzato grazie ad un finanziamento del MIUR. Il laboratorio consente di creare un ambiente dove gli alunni possono sperimentare la propria creatività utilizzando tecniche digitali e tecniche manuali attraverso il gioco, la manualità, l'esperienza in un clima didattico, cooperativo e interdisciplinare. Gli alunni saranno chiamati a ideare, a creare, a progettare, a produrre, a verificare degli elaborati seguiti sempre dagli insegnanti curriculari e anche da esperti esterni. Abbiamo presente una stampante 3D per materiale plastico e una stampante 3D per materiale plastico e ceramica. Questi strumenti, questi macchinari sono di supporto alle metodologie, quindi il loro compito non è solo imparare a usarli, ma imparare a usarli seguendo la metodologia come per esempio la risoluzione dei problemi o anche imparare facendo. Tutte queste metodologie sviluppano poi le competenze di cittadinanza. Questa strumentazione permetterà di arricchire la didattica con nuove strategie, sviluppando l'apprendimento non solo all'interno delle singole aule, ma in un ambiente stimolante in cui l'alunno, attraverso la sperimentazione, diventa artefice del proprio sapere. Inoltre, nelle ore in cui non sarà impegnato per le attività curriculari, l'atelier sarà uno spazio aperto alla comunità e al territorio, nel quale svolgere anche in sinergia con gli enti territoriali, laboratori con i genitori o altri utenti. Oltre a questi strumenti altamente tecnologici abbiamo anche in dotazione all'istituto un forno che serve per la cottura delle argille per farla diventare terracotta e poi poterla decorare di conseguenza come si ritiene più opportuno. Sono strumenti che potenziano quel modo di fare scuola che comunque deve mettere sempre al centro il ragazzo che fa e costruisce. Questi strumenti potenziano questa possibilità, hanno questo gancio in più perché sono affascinanti per i ragazzi e quindi sviluppano quelle creatività che poi sono alla base anche della nostra società perché ci vuole innovazione, ci vuole creatività per creare poi anche futuro a tutti i livelli, anche occupazionale. Il laboratorio sarà disponibile come risorsa comunitaria offrendo sia accesso libero a tutte e tre gli ordini di scuola, infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sia accesso programmato per specifiche iniziative sociali.